Buon dizione! Allora diciamo che io vi farò vedere un giochetto di prestigio che adesso farò io. Voi dite ma come è possibile agli ospiti e fare un gioco di prestigio? Sì sì, vi farò comparire da dietro l'orecchio una moneta, davvero, diciamo, così. Sì, guardate, e poi vi presento l'ospite di oggi, davvero, io penso che, pensavo che, penserei che la moneta apparirà. Bravo, bravo, diciamo, insomma, dicevo bravissimo, adesso compare, compare, guardate, avete visto? Gioco riuscitissimo, posso dire l'orecchio, vabbè, comunque, adesso, signori miei, vi presenterò questo grandissimo artista, diciamo veramente, ci sono emozionato, che si chiama Elion, sì, si trasformista, come volete chiamarlo, non lo so, scusate, ma qui ho notato un cioccolatino, allora io me lo vorrei mangiare, scusate, non si parla con la bocca piena. Ma come si mangia? Non si riesce neanche a scartare? Guardi, quello è un altro personaggio che verrà poi, arriva un trasformista, occhio, Elion. Guardi, guardi,emeni... avete visto incredibile le ho trasformiste la giacca della tuta è una felpa col cappuccio addosso incredibile avete visto che roba va bene io vi saluto e vi do appuntamento alle prossime puntate del dizionario di lingua e grazie ancora di seguirci ciao